Anche il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola, ha indagato per la morte di Margarita, la bimba di 5 anni, precipitata in mare dal promontorio di Capo Palinuro il 22 maggio scorso. Il suo nome si aggiunge nel registro degli indagati a quello dei genitori della piccola che vi furono inseriti subito dopo la tragedia. Per tutti e tre l'accusa è di omicidio colposo e in queste ore anche al primo cittadino è arrivato l'avviso di garanzia, notificato gli dalla Guardia Costiera, su disposizione della Procura di Vallo della Lucania. Si tratta di un atto dovuto che va ad accertare eventuali mancanze sull'altro filone su cui si sono concentrate le indagini, oltre l'imprudenza dei genitori, cioè quello relativo alle condizioni del sentiero e alla segnaletica presente. A tal fine erano stati nominati dei consulenti esperti per gli accertamenti sul sentiero, preso quella mattina dalla famigliola composta da madre, padre e 5 figli, tutti di un'età compresa tra 1 e 6 anni. Ora all'esito dei rilievi è arrivato l'avviso di garanzia al sindaco Stanziola, accusato di non aver vigilato sulla sicurezza del sentiero, pare sprovvisto di un'adeguata cartellonistica e dell'allerta sui relativi pericoli. La tragedia di Margarita, le cui ceneri sono state poi disperse dai genitori sul Monte Stella, è ancora viva nel cuore dei Cilentani. Quel 22 maggio, dopo essere partiti da uno stabilimento balneare di Palinuro, Margarita e la sua famiglia, il fratellino più piccolo in braccio al padre, avevano deciso di avventurarsi lungo il sentiero dei Fortini per una passeggiata. Ma a un certo punto la piccola era sfuggita al controllo dei genitori, scomparendo lungo un dirupo all'improvviso senza che il padre o la madre riuscissero ad afferrarla in tempo. Il suo corpicino venne rinvenuto in mare diverso tempo dopo dalla guardia costiera, allertata dai genitori una volta rientrati a Lido dove erano ospiti. Il suo corpicino è sceglie.